Musica Un lungo corteo aperto dalle scuole ha accompagnato il feretro in chiesa. Un lungo applauso ha accolto la salma di Sebastiano Sortino al suo ingresso in Piazza del Popolo. La comunità floridiana c'era, numerosa, per stringersi intorno alla famiglia e lo stesso panificatore ucciso nella notte di sabato 10. È stato l'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalardo, a celebrare ieri pomeriggio il rito funebre insieme ai parrucci delle chiese e delle città. Malore per i familiari in una chiesa madre gremita, commossa, straziata. L'appello al perdono lo lancia il vescovo durante l'omelia. Non lasciamoci vincere dai sentimenti meno buoni, precisa Monsignor Pappalardo, come la commozione dolorosa per il fratello strappato alla vita. Affidiamoci con la preghiera a quel Cristo che ha su di sé preso la sofferenza e la trasformata speranza. Si rivolge ai familiari affinché possano sentire il conforto della chiesa, della comunità tutta stretta a loro, anche con la presenza dei massimi vertici delle autorità civili e militari. Ho ritenuto doveroso, dice il prefetto Armando Gradone, far sentire la presenza dell'istituzione alla comunità provata da un delitto raccapricciante. Spero sia un caso isolato. Si è riunito il Comitato Provinciale sulla ricchezza pubblica per individuare soprattutto le modalità per avvicinare ragazzi, a far capire che tali gesti devono essere condannati. Non hanno mancato di essere vicini alla comunità floridiana neanche ai vertici della FAI, la federazione antiracket italiana. La nostra presenza qui, spiega il presidente onorario Tano Grasso, si deve al fatto che Sebastiano Sortino è uno dei soci fondatori dell'associazione sul territorio di Floridi e Solarino. Anche se non si tratta di racket, siamo di fronte a un atto che limita comunque la libertà dell'attività di impresa. Ciò che non deve accadere è che questo omicidio abbia un effetto intimidatorio sugli altri operatori economici. Il richiamo poi alle famiglie, alle agenzie educative, all'associazione e alle istituzioni affinché siano sempre presenti all'interno della comunità. Sebastiano Sortino, nella tarda mattinata di ieri, ha fatto il suo ultimo ingresso all'ippodromo del Mediterraneo, salutato dagli amici operatori ippici che l'hanno incontrato nel luogo dove Nuccio coltivava la sua grande passione per il galoppo, con una scuderia di sua proprietà. Agenti della Polizia di Stato di Augusta sono intervenuti in un supermercato in via Alessandro Moro per una rapina in atto. Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato poco prima due giovani appena fuggiti travisati da Passamontagna sotto la minaccia delle armi, mentre asportavano nella cassa la somma di circa 1.438 euro. Indagini in corso. Denunciato ad Avola, invece, un uomo di 50 anni per porto abusivo di armi. L'uomo è stato trovato in possesso di coltello. Gli agenti lo hanno intercettato nel parcheggio dell'ospedale di Maria in possesso di un coltello a serrammanico. La richiesta di proroga all'avvio delle nuove autorità portuali di Siracusa, avanzata dal governatore Crocetta al ministro del Rio, rappresenta un ritardo dannoso per la Sicilia, per il futuro del porto di Augusta e lo sviluppo della città. La denuncia arriva dal segretario generale della CGL Augusta, Massimiliano Arena, e dal segretario generale Filt e CGL Siracusa, Vera Uccello. La CGL di Augusta e la Filt e CGL ritengono che la riforma del sistema portuale varata dal governo Renzi rappresenta una grande opportunità se si vuole realmente affrontare la sfida del mercato e consente al paese di fare un importante passo verso quella dimensione europea. Le motivazioni ufficiali dichiarate dal governo regionale, dicono Arena e Uccello, sono da ricondurre alla mancanza di infrastruttura nel porto di Augusta, che si potrebbero realizzare nei primi tre anni di proroga, lavori e progetti approvati e già finanziati e che lo stesso ministro il mese scorso ha bloccato, lavori avviati e necessari all'ampliamento della panchina per il terminal hub, stoccaggio containers e al collegamento ferroviario. Secondo la CGL di Augusta è indispensabile unire le energie di tutti al fine di ingaggiare la battaglia, affinché al di là degli accorpamenti e del riconoscimento della porta authority non si decida una proroga del commissario, ma si proceda al più presto alla nomina di una personalità che dimostri di avere visione sistemica e che assicuri riscatto e rispetto alla nostra comunità. Intanto la CGL di Augusta, di concerto con la CGL provinciale e con la Filt provinciale, si attiverà per organizzare ad Augusta stesso un'iniziativa pubblica. Dovrà vedere la presenza della portualità della Sicilia orientale e di tutti i rappresentanti politici ad ogni livello. Non vi sono dubbi, aggiungono Massimiliano Arena e Vera Uccello, che essendo il porto di Augusta uno dei più importanti porti industriali e commerciali in Italia, per ampiezza e profondità dei fondali, è necessario un investimento infrastrutturale che permetta di svolgere il ruolo di Porto Cor, così come riconosciuto dalla legge e di coordinamento dell'area mediterranea. Arrivano 414 milioni alle autostrade siciliane. Lo sottolinea con una dichiarazione il presidente Rosario Faraci per il Consorzio delle Autostrade, il CAS. Sono particolarmente soddisfatto per il patto Sicilia, dice il governatore Crocetta, sempre posto la questione autostrade tra i punti centrali della pianificazione regionale. Arrivano 124 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza della Messina Palermo e della Messina Catania, 290 milioni per il completamento della Siracusa Gela. Dall'insediamento del Consiglio direttivo che presiedo, si è mosso su due difficili fronti, dice da un lato rimuovere tanti debiti per Gressi e far fronte ai lavori più urgenti, dall'altro definire quei grandi progetti necessari per il superamento della criticità, tutti noti sia sulla Messina Palermo che sulla Messina Catania. Contestualmente, dopo aver avviato i cantieri dell'Otti 6, 7 e 8 della Siracusa Gela, da Rosolini a Modica, si è riaperto con decisione il problema del completamento di questa importante autostrada necessaria per lo sviluppo dell'area geografica. Ora, dice, sarà cura del CAS procedere alla fase applicativa ai relativi appalti. Un incontro dibattito per capirne di più su una riforma complessa i cui effetti si sommano a quelli prodotti della nuova legge elettorale, l'Italicum, da poco entrata in vigore. Una legge di riforma approvata il 12 aprile del 2006 che verrà sottoposta al referendum confermativo il prossimo autunno. Una consultazione referendaria che non prevede un quorum per la sua validità, qualunque sia il numero di votanti, quindi la legge entrerà in vigore se prevarranno e sì o verrà abolita se prevarranno i no. Salvo Adorno, docente di storia contemporanea all'Università di Catania, già consigliere comunale e segretario cittadino del Partito Democratico di Siracusa, e Raniero Lavalle, giornalista, scrittore, ex parlamentare e cofondatore del Movimento Sinistra Cristiana, si confronteranno in un incontro-confronto Siracusa Resiliente. L'appuntamento è fissato per sabato 17 settembre alle ore 17.30 presso l'Aula Magna del Liceo Corvino a Siracusa. Si è rivolto alla Procura della Repubblica di Siracusa affinché abbia un'indagine per accertare di chi sono le responsabilità, perché nella rete idrica di Pachino è stata emmessa presunta acqua non potabile e adesso si chiede una verifica alla Procura. A dirlo con documenti alla mano il deputato all'Ars l'onorevole Pippo Gennuso, che all'inizio dell'estate aveva denunciato il sospetto che nella rete pubblica cittadina venisse emmessa acqua non buona. Ho ricevuto proprio questa mattina il risultato delle analisi eseguite dal Dipartimento Ingrassia, Igiene e Sanità Pubblica dell'Università di Studi di Catania, che attesta la non potabilità dell'acqua. Il laboratorio dell'Ateneo ha analizzato un campione di acqua prelevato in contrada a Maccari e l'amministrazione comunale di Pachino per far fronte alla carenza idrica ha immesso nella rete comunale l'acqua del Pozzo Mauceri. Nel risponso delle analisi il direttore del Dipartimento scrive e il campione analizzato possiede buone caratteristiche chimiche, l'esame microbiologico evidenziato batteri, indice di inquinamento ambientale. Già nel 2004 e per gli anni a seguire si conosceva la vetustà della rete idrica. La spesa affrontata sarà segnalata alla Corte dei Conti. Non si può giocare con la salute dei cittadini, dice Gennuso. Se qualcuno ha sbagliato, adesso paghi. A Siracusa la questione degli esili nido crea emergenza sociale. Si intervenga immediatamente per dare risposta a famiglie operatrici. È l'appello della deputata nazionale di Movimento 5 Stelle, Maria Marzana, che ha presentato al governo una proposta per definire il livello standard di fabbisogno nell'erogazione dei servizi essenziali attualmente in discussione per la Commissione Cultura. Ancora oggi sul territorio italiano, dice la Marzana, c'è una grande disparità nell'erogazione dei servizi essenziali, quali la mensa scolastica, l'assistenza specialistica e l'asilo nido. Attraverso la risoluzione che ho presentato come prima firmataria alla Camera dei Deputati, chiedo al governo di definire il livello essenziale di questi servizi e di supportare le amministrazioni più in difficoltà a fine di garantire equità sociale, che purtroppo spesso manca a fronte di inefficienze, disattenzione e superficialità, come sta accadendo purtroppo a Siracusa in merito alla questione degli esili nido. A Siracusa, con Dino alla deputata nazionale di Movimento 5 Stelle, c'è tutto il necessario per garantire il servizio di asilo nido. A mancare è un'amministrazione efficiente e garante di diritti di grandi e piccini. Domani, peraltro, il servizio dovrebbe riprendere, ancora aggiunge, ma i gestori delle cooperative, che hanno firmato il contratto di affidamento lo scorso anno, stanno assistendo da parte dell'amministrazione a continue proposte di cambiamento a ribasso. Ad essere pesantemente disattese, sono purtroppo le esigenze educative dei bambini e di supporto per le famiglie. Chiedo all'amministrazione, conclude Maria Marzana, che la questione sia affrontata con l'attenzione che merita e risolta prontamente nell'interesse delle operatrici, delle famiglie e dei bambini. E il Governo nazionale, invece, lo sollecito nel definire un livello standard del fabbisogno di questi servizi a livello nazionale, al fine di garantire maggiore equità sociale, perché purtroppo la maggior parte dei disservizi finiscono con il colpire, soprattutto il Sud, che rischia di precipitare nel sottosviluppo permanente. Firmato da parte del dirigente del servizio 5 edilizia varia gestione patrimonio abitativo e dell'assessorato regionale per le infrastrutture e della mobilità, il provvedimento che interessa le case popolari della provincia di Siracusa, a darne notizie all'onorevole Vincenzo Vinciullo, presidente della Commissione bilancio e programmazione all'Assemblea regionale siciliana. Superate le difficoltà nell'interpretazione della norma, attraverso un ulteriore intervento da parte del Ministero, abbiamo il primo provvedimento, dice Vinciullo, che riguarda le case popolari di Via Luigi Cassi al numero civico 69. Intervento a favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa è posto in gradatorio al numero 18 e comporterà l'impiego della somma di 765.536 euro. Finalmente anche le case di Via Luigi Cassi avranno l'intervento sperato e promesso, dice Vinciullo. Adesso cercheremo di recuperare gli altri progetti in modo che entro l'anno vi possano essere ulteriori decreti di finanziamento che riguardano anche Pachino, Francofonte e Noto. Il Comune di Siracusa ha avuto finanziamento per un progetto di 27.000 euro. La realizzazione è quella di una struttura per la raccolta di rifiuti e RAE all'interno del Centro di Raccolta Comunale di Targia. Avrà funzioni di aria, accettazione e deposito a disposizione direttamente dei cittadini. Sarà dotata di un sistema di peso e di unità di lettura con elaborazione dati e di un punto informativo allestito anche con funzioni didattiche. Il progetto, ridatto dall'Ufficio Ecologie e dall'Igm, coordinato dal Consulente dell'Ente per le Politiche Ambientali, Emma Sgenbari, si è posizionato a metà graduatoria risultando l'unico premiato in Sicilia. Un centro che è stato inaugurato a settembre nel 2014 e che in atto dispone di un punto di raccolta oli vegetali e minerali. La finalità è quella di incentivare il cittadino virtuoso con riconoscimento di premialità economica sotto forma di riduzione della tassa dei rifiuti latari. A dichiararlo il sindaco Giancarlo Garozzo, ricordando che il punto RAE prevede anche una divulgazione permanente nelle scuole che vengono a visitare il centro di raccolta a conferma della grande attenzione negli aspetti didattici ed educativi della gestione dei rifiuti. Tutto pronto? Sabato 17 settembre si inaugurerà alle 18.30 il LAIC, l'ambulatorio infermieristico ed ostetrico comunale frutto della sinergia tra il comune di Canicattini Bagni e la Lilt. L'iniziativa nasce su proposta dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Menta, che già al tempo addietro ha messo a disposizione della Lilt, preseduta dal dottor Claudio Castobello, i locali al primo piano del centralissimo Palazzo Cianci in via 20 Settembre, per l'istituzione di un ambulatorio nell'ambito del progetto di prevenzione e tutela della salute e del benessere della persona, per i canicattinesi e per i cittadini della zona montana. Un concetto ribadito nell'incontro di ieri pomeriggio nel comune di Canicattini, alla presenza dell'assessore al welfare, dottoressa Marilena Miceli, il presidente della Lilt Siracusa, del dottor Claudio Castobello, la dirigente del sesto settore, la dottoressa Paola Cappè, e tre giovani rappresentanti del gruppo di infermiere professionali ed ostetriche che saranno impegnate proprio nel progetto LIK. Il progetto, approntato con il comune di Canicattini-Bagni e con il gruppo di professionisti del settore, ha sottolineato il dottor Claudio Castobello, nasce quindi dalla necessità di proporre nel territorio, caratterizzato da disagi come la distanza dai centri più specializzati come Siracusa, una soluzione di supporto all'assistenza sanitaria pubblica che nel contempo promuove la cultura della prevenzione. Vogliamo contribuire, dice ancora Castobello, a decongestionare l'attività di deospedalizzazione, deomedicazione e della cura dei pazienti, al fine di garantire bisogni assistenziali, attraverso anche una capillare azione di informazione ed educazione sanitaria. Si pensi alla riduzione dei tempi per le visite specialistiche, per le mammografie ed altri esami strumentali, così come la comodità di un prelievo a domicilio. Il progetto, proposto dal sindaco Mente, fatto proprio da tutta la Giunta, aggiunge poi l'assessore Miceli, ha trovato il suo percorso naturale con la Lilt del dottor Castobello, con la quale da anni collaboriamo per la prevenzione e la tutela della salute. Questa esperienza, ha concluso Miceli, non vuole essere concorrenziale con nessuno, ma piuttosto di supporto e di collaborazione con i medici di famiglia e con le strutture già presenti nel territorio a tutti i livelli, realizzando una rete assistenziale. a tutti i livelli,